La Caritas Inveritate La dottrina sociale della Chiesa è della Chiesa, quindi cammina con le gambe della Chiesa con le persone che la leggono, la pensano, la discutono e cercano in qualche modo di fare in modo che la Caritas Inveritate illumini il loro cammino. Magari hanno lasciato perplessi, magari hanno suscitato domande, però hanno lasciato anche un segno, questa idea della gratuità per esempio, questa idea della crisi come un'opportunità, l'idea che occorra mettere a tema le cose dimenticate, un certo modo di fare cooperazione allo sviluppo, un certo modo di fare governance internazionale. Io ho l'impressione un po' che in fondo la radice profonda della Caritas Inveritate non sia ancora stata compresa, cioè il fatto che economia per esempio e sviluppo, economia ed etica non sono due aspetti diversi, per cui una cosa eticamente buona è anche economicamente funzionale o comunque funzionerebbe meglio che non quello che si sta tentando di fare oggi. È come se si dicesse, siccome è una cosa della Chiesa, dice delle cose buone, etiche che si dovrebbero... Ma sono d'accordo, perché questa è la questione, per usare i termini che usa la Caritas Inveritate stessa, è la questione del posto di Dio fra gli uomini, perché appunto l'abitudine normale è di vedere Dio sulle nuvolette, che certe volte guarda giù, certe volte non guarda, e invece si pensa che c'è tutto uno spazio, diciamo, di cose umane, di cose profane dove Dio non c'è, invece di profano non c'è niente, cioè diciamo che crediamo che Cristo sia fatto carne, è morto, è risorto, quindi non c'è niente che gli sia estraneo, né il mangiare e il bere, né il lavorare da carpintiere, né il camminare, né il far festa con gli amici. Questa semplicità della compagnia continua, del sacro, di ciò che è dell'altissimo con noi, è qualcosa che deve essere riannunciato da capo, perché quando è annunciata e quando se ne fa esperienza, effettivamente cambia la vita, rende la vita più bella. La principale forza che muove la storia è la presenza di Cristo, e questo è l'inizio della Caritas in Veritate. E effettivamente è più facile parlare dei dettagli che prendere di petto questa, che però è la questione nella quale tutti i dettagli prendono una luce diversa. Beh, un'altra delle sensazioni che ho è per esempio che la Caritas in Veritate riporti il discorso per esempio sul lungo termine, sul piano economico, cioè sul fatto che bisogna pensare con tempi più lunghi. L'impressione è che in fondo, anche a livello proprio di governi, di organizzazioni internazionali, si funziona sempre molto in termini di frenesia, del bisogna fare qualcosa entro venerdì, se no... Io penso che questa è un'esigenza molto capita da tutte le persone di buona volontà e quindi è un punto su cui si può costruire insieme facilmente. Certamente la finanza era malata di quello che in inglese si chiama short termism, questa idea che va fatto tutto subito. E certamente molte imprese hanno scelto di fare bilanci più sulle valutazioni di breve periodo che sulla risposta di lungo periodo a un bisogno reale di lungo periodo. E quindi, insomma... Ma sia sempre, diciamo, nel disegno di grande orizzonte della Caritas in Veritate, perché se Dio c'è, ogni istante assume lo spessore dell'Eterno e quindi anche ogni istante può essere giocato dentro le grandi domande che non si esauriscono entro il venerdì sera. La Caritas in Veritate risottolinea ancora una volta la necessità di superare certi modi di pensare, per esempio in termini di profitto, di non profit. Il rischio però è che si pensi che allora la Caritas in Veritate dice che se una cosa non dà profitto, allora non vale niente. Beh, io direi che il principio della gratuità taglia la testa al toro fra le forme giuridiche profit e non profit, perché la gratuità è necessaria perché ogni gesto abbia senso, incluso fare profitti abbia senso, perché la gratuità è innanzitutto ricevere gratis, quindi vivere nella gratitudine di tutto quello che ci è dato. La prima gratuità è rendersi conto di tutte le cose che abbiamo tra le mani senza che ce le meritiamo. Faccio un esempio. Indipendentemente che un'impresa sia profit o non profit, che venga una bella idea, un'intuizione, intuizione. Questa intuizione, che poi è quello che muove i veri grandi imprenditori, da dove arriva? Ce la siamo meritati? No. L'intuizione è dono. E così, l'intuizione di come risolvere il motore che non gira, o il rubinetto che perde, o tutte queste cose, va al di là dell'essere profit o non profit. è proprio vivere nella dimensione del gratuito. E questo è un passaggio profondo, secondo me, e che io ho imparato dal mio nonno. Il mio nonno faceva l'intagliatore del legno. E il nonno faceva l'intagliatore in questa piccolissima bottega con 7-8 grosse gabbie di canarini, 150-160 canarini, con questo cinguettio totale. E la mia nonna gli dice, ma con tutti questi canarini spendiamo più di quello che tu guadagni. E lui dice, sì, ma io se non sento cantare i canarini non riesco a lavorare. Che è in un certo senso dire il fatto che uno col suo lavoro comunica il bello, perché fa l'esperienza del bello. E questo è gratuità. Ovviamente il mio nonno non faceva il non profit, perché doveva mantenere la sua famiglia. E questo è così. Questa vuol dire tradurre il concetto di fraternità, invece che è un altro di quei concetti che la carità, se in verità, ti ha cacciato lì e quasi a sorpresa. Beh, io penso questo. Che l'unico modo in cui si possa fondare una fraternità sia riconoscendo un padre. Cioè l'idea di fraternità non è un'idea di fratellanza umana in cui tutti siamo uguali, perché noi decidiamo di trattarci gli uni gli altri come uguali. La parola fraternità a me evoca tantissimo questo richiamo del posto di Dio nel mondo. Ecco, siamo tutti fratelli perché realmente Dio si è preso cura di ciascuno di noi come padre. E quindi dentro questa consapevolezza dell'essere figli diventiamo fratelli in un modo che non è legato alla fragilità delle nostre buone intenzioni. La fraternità è una cosa più seria perché anche quando siamo io e te siamo sempre in tre. C'è sempre un padre. Dentro questo orizzonte io capisco la fraternità e mi sembra che questo sia un altro pezzo importante della dottrina della Chiesa tradizionalissima, ma su cui la Caritas in Veritate è riuscita a mettere questa parola nuova, effettivamente, fraternità è una parola nuova nel linguaggio della dottrina sociale. Ecco, ma come si traduce poi questo discorso sul piano economico? Io penso che la dottrina sociale, quando cominciamo a imbavagliarla, facendola diventare una specie di manualino per l'uso, allora bisogna far così, abbia perso già tutta la sua potenza e il suo fascino. Posso dirla così, secondo me nell'azione economica quotidiana la parola fraternità è una vocazione e quindi non c'è una risposta preconfezionata di come si vive l'economia in una maniera fraterna e ognuno deve sfangarsela di trovare qual è la maniera di farlo. Io posso fare un esempio per il mio mestiere, non sono un imprenditore, io sono un professore e per me cosa vuol dire fraternità? Non toglie mica il fatto che io insegno e i miei studenti debbano imparare. Sono due funzioni diverse, sono due ruoli diversi, però diciamo, per me è molto chiaro cosa significa vivere il mio insegnare agli studenti universitari in maniera gratuita. Significa che io devo spendermi totalmente, ma quando vedo nei loro occhi l'interesse, la passione e una risposta, ecco, questa risposta è una cosa totalmente gratuita. Cioè non è affatto scontato che questo accada, quando accade io ne sono grata. Secondo me dove stiamo andando? Una domanda sia alla luce di quello che sta succedendo in questi tempi. È tutto molto mobile, la sensazione del cittadino è sempre di essere in mezzo a un turbine in cui tutti gli dicono che cosa c'è di sbagliato, ma nessuno mai gli dice da che stava bisogno andare. La Caritas in Veritate ci dà qualche indicazione su come ci si deve muovere? Ma secondo me la Caritas in Veritate non ha ovviamente lo scopo di dare giudizi sul qui e ora. E poi dobbiamo ricordarci che parla la Chiesa Universale, quindi in un certo senso parla all'Occidente in crisi, perché poi la crisi è una crisi chiaramente dell'Occidente e soprattutto di certo Occidente che non ha voglia di cambiare, che stava tanto bene nel mondo che ormai abbiamo alle spalle, che fa fatica a immaginarsi un mondo diverso. La Caritas in Veritate parla al mondo che è più grande. Io penso che a noi, soprattutto io sono italiana, ha la situazione di grave difficoltà economica, ma forse ancora di più di buon vivere insieme nella città, nel paese. Per noi che viviamo questa esperienza credo che la Caritas in Veritate sia soprattutto un invito a spalancare gli orizzonti, perché il mondo è più grande, il mondo sta cambiando e questi cambiamenti sono pieni di segnali di cui essere veramente incuriositi e grati. Penso a certa Africa. L'Africa è un posto incredibilmente affascinante, interessante, dove stanno succedendo, stanno cambiando un sacco di cose. Hai in mente qualcosa di preciso? Sì, beh, ecco, ho in mente una cosa precisa, perché ovviamente quando uno parla non può far altro che rivivere il suo vissuto recente. Allora, nel mio vissuto recente c'è l'incontro con questa realtà del Burundi, un oleificio. È bellissima la sua nascita e ancora più bello quello che ha davanti. Allora, questa storia di un oleificio in Burundi ha circa otto anni ed è legata al fatto che durante una estate dei giovani laureati della mia università, laureati in agraria, fossero andati lì per fare la classica cosa, diciamo, del campo di lavoro estivo con dei missionari. Andando lì, questi laureati in agraria di cui uno esperto di questioni di nutrizione ha valutato che la dieta locale era assolutamente inadeguata per garantire la salute, perché non avevano accesso ai grassi fondamentalmente. E quindi ha trovato la maniera di fare l'olio con gli avocado, che lì invece sono molto abbondanti. Allora hanno cominciato a estrarre l'olio dagli avocado e a studiare quest'olio di avocado che sembra essere, insomma, caratterizzato da proprietà organolettiche molto gradevoli, ma anche caratteristiche tecniche molto valide, tipo, adesso non so se dico la parola giusta, ma il punto di fumo è alto, per cui va benissimo anche per cuocere, per friggere, eccetera. Fatto sta che questa piccola cosa è nata come una cooperativa di otto ragazzi che al tempo avevano tra i 18 e i 20 anni e hanno cominciato a spremere manualmente, a fare manualmente l'olio di avocado. Beh, insomma, per farla corta, nel giro di otto anni hanno inaugurato questo oleificio, che è una casa di mattoni, che in Africa è una signora cosa. E devo dire, la cosa che mi ha colpito di più è stata la, le foto della festa, dell'inaugurazione di questo oleificio, che dà lavoro a mille famiglie. Insomma, questa festa attorno all'oleificio, una festa popolare, c'erano 20.000 coloratissime persone, 20.000, che sono le persone che riescono ad avere reddito da questo oleificio, il quale è una delle tre imprese del Burundi che ha la certificazione del Codex Alimentarius, per cui esporteranno l'olio di avocado anche in Europa e ovviamente col supporto dell'università in collaborazione con degli esperti. Quindi una classica storia di cooperazione internazionale, che però la dice lunga sulle possibilità che l'Africa ha di dare risposte ai bisogni locali, in questo caso la dieta, che però sono anche risposte creative e innovative per un mercato che somiglia ai mercati che conosciamo noi. Quindi l'Africa è piena di sorprese e secondo me se ci crediamo abbastanza le vedremo. Forse questa è la maniera più giusta per concludere questa nostra puntata e augurare ai nostri telespettatori buon anno. Bene, buon anno a tutti.